Buongiorno a tutti, ben ritrovati al nostro live trading del mercoledì, sono le 14.15 andiamo, datemi conferma audio video cortesemente, un feedback sulla qualità della videoconferenza ovviamente, perfetto, vedo che è tutto ok, prima di iniziare come al solito avviso su esonero e responsabilità nel webinar qualunque parere, notizia, ricerca, analisi, prezzo o altro tipo di informazione forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento e sono dati con finalità educative in ambiente demo XTB non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno compresi i mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni oggi live trading ovviamente aspettiamo un po' notizie essendo mercoledì come ogni mercoledì andiamo un attimino a rivisitare un po' i cross più interessanti dopo un po' selezioni piuttosto movimentato stiamo vivendo una fase piuttosto congestionata quindi andiamo a verificare un po' il cross come dollaro contro il dollaro canadese e il petrolio che sicuramente sono un po' sotto osservazione in quest'ultimo periodo ovviamente DAX e la situazione dell'SP500 i dati di oggi, i più importanti abbiamo avuto questa mattina intorno alle 10.30 se non ricordo male i non fan payrolls UK che sono stati dati negativi al di sotto delle aspettative parliamo negativi ma parliamo al di sotto delle aspettative ovviamente poco sotto l'indice dei salari in Gran Bretagna è sceso di un 0.1% quindi molto velocemente abbiamo rivisitato un po' il nostro calendario macroeconomico che sicuramente fa bene appunto per cercare un po' anche di sfruttare la volatilità una giornata che sicuramente tra 10 minuti continuerà ad essere abbastanza interessante perché ci aspettiamo tra pochissimo un po' i dati sull'inflazione per quanto riguarda l'America ovviamente poi le scorte di petrolio del 16.30 e qualche dato ancora sulle vendite in Canada questa mattina ci eravamo lasciati con un'operativa sul DAX che purtroppo non abbiamo potuto finalizzare che non è mai partita sostanzialmente ci eravamo lasciati un po' su questa zona di 10.736 avevamo un buy stop proprio qui sopra che in realtà non ha prodotto alcun tipo di ingresso come sapete alle 9 facciamo un webinar sull'apertura proprio degli indici proprio per cercare di andare a monetizzare i primissimi movimenti di mercato abbiamo avuto un'oretta in cui il DAX sicuramente è stato un po' congestionato un po' di volatilità c'è stata in questa fascia qui vedete abbiamo la fascia dalle 9 alle 10.30 che io personalmente ritengo la più importante un chiaro segnale short ovviamente lo abbiamo avuto poi in tarda mattinata verso proprio le 11.45 con questo pullback piuttosto strategico e piuttosto importante da poter utilizzare la domanda adesso è conviene entrare short in questo momento qui o conviene aspettare magari rimettersi long sicuramente quando comunque il DAX ha una forza così importante non ha tanto senso andare long sinceramente lo vediamo anche in un grafico orario eccolo qui nel nostro grafico orario l'area di congestione che si sta producendo sostanzialmente negli ultimi giorni a partire proprio dal post elezioni un'area di congestione piuttosto importante che oscilla tra un massimo di 10.000 quasi 10.800 e un minimo che è più o meno 10.569 quindi siamo usciti proprio vedete questa zona qui di vendita piuttosto interessante di rapporto rischio rendimento piuttosto interessante adesso stiamo andando proprio sull'area di supporto ovviamente chi ci segue un po' già da abbastanza da tanto tempo lo andiamo a eccolo qui a identificare questo quindi è il nostro rettangolo possiamo tranquillamente dare percentuali sicuramente molto molto interessanti quali sono queste percentuali che poi avrete visto anche poi ieri sul webinar dello scalping sostanzialmente le percentuali che adesso stiamo avendo e che interessano a noi ovviamente sono quello sono quelle del rischio rendimento abbiamo identificato nei giorni scorsi anche un'area piuttosto significativa che era questa zona qui di massimi che ovviamente vi poteva dare zone di vendita piuttosto importanti adesso quello che noi dobbiamo fare per gli scalper è cercare di approfittare questa volatilità a ribasso quindi approfittare un po' di questa volatilità che ha acquistato forza nell'ultima ora soprattutto rompendo anche un po' questa zona intermedia che identifichiamo con questo livello qui dei 10.650 vedete una zona intermedia che sicuramente ci sta portando proprio in una zona proprio di acquisto piuttosto piuttosto interessante perché non perché noi qui abbiamo la proiezione o la palla di vetro o cerchiamo o siamo più favorevoli del long piuttosto che lo short non ci interessa assolutamente nulla perché in funzione di del capitale che noi andiamo a rischiare ovviamente ci aspettiamo una remunerazione piuttosto piuttosto importante ok in questo caso qui se riuscissimo ve lo faccio vedere ci aiutiamo un attimino anche con i nostri livelli di fibonacci così lo vediamo meglio proprio a livello numerico se riuscissimo ecco qui a entrare long proprio in questa zona qui in questa fase qui e ovviamente abbiamo proprio uno stop proprio sul punto zero che sarebbe proprio il minimo quindi con la possibilità di andare a cogliere un po' tutta la correzione qualora ovviamente poi proseguissimo con lo short e con un mercato short e e quindi parleremo solo di correzione o qualora fosse poi il momento di andare a rompere questa zona di massimo intorno ai 10.800 e a quel punto ovviamente riprenderemo un po' questa tendenza al rialzo e quindi sotto quel punto di vista noi ci saremmo già collocati in una zona super favorevole da poter ottimizzare perché ovviamente se andiamo ad acquistare in questa fase qui quindi quando evidentemente abbiamo uno stop molto molto contenuto possiamo lavorare con un rapporto piuttosto interessante sotto questo punto di vista in altresì vediamo anche un po' il confronto con con l'euro dollaro se da una parte abbiamo il dax dall'altra abbiamo evidentemente una situazione eccola qui opposta sul sull'euro dollaro vedete l'euro dollaro ovviamente qui lo vediamo in versione daily mentre il dax ci siamo fermati un po' su su un canale alto della nostra della nostra linea di tendenza chiamiamola anche così lo vediamo in D1 eccolo qui vedete questa zona di congestione piuttosto piuttosto importante che ormai dura da dal mese di agosto addirittura sta lasciando un po' la volatilità implicita e che c'è stato ovviamente durante la fase delle elezioni del nuovo presidente però sotto questo punto di vista vedete che siamo ancora su una zona piuttosto interessante dove la struttura rialzista sicuramente è ancora valida la struttura rialzista di medio periodo non parliamo mai di lungo periodo in questa fase qui mentre abbiamo sull'euro dollaro esattamente una situazione opposta un euro dollaro che ovviamente a livello daily lo troviamo congestionato da ormai quasi due anni sostanzialmente eccolo qui con il nostro bel minimo sta andando un po' a replicare il minimo assoluto degli ultimi due anni è ancora ben distante ci mancherebbe altro parliamo in questo momento siamo 1.07 e parliamo di 1.04 e 80 più o meno ovviamente abbiamo visto negli ultimi giorni come da 1.12 è passato a 1.07 ok questa fase qui di congestione che ormai sta perdurando da questi due anni qui nell'ultimo bianno ovviamente potrebbe sbloccarsi proprio in virtù delle nuove politiche che ci saranno a partire proprio da gennaio ok anche gli Stati Uniti se ci pensate hanno avuto un po' una fase di di congestione piuttosto interessante e sotto questo punto di vista lo vediamo anche nel VIX c'è stata molta molta in realtà molta molta fase laterale e molta speculazione attualmente l'SP500 si è ricollocato un po' sui livelli dei 2000 lo vediamo questa parte qui sui 2170 ovviamente una nuova zona di massimi che si è andata a creare un po' da diversi mesi e sotto questo punto di vista ovviamente anche in questo caso qui potremmo aspicare un po' a nuovi scenari proprio a partire da gennaio quindi quando conosceremo in dettaglio un po' quando ci sarà l'insegnamento del nuovo presidente e quando conosceremo effettivamente un po' le politiche che verranno applicate quindi sostanzialmente abbiamo qui di fronte a noi un altro paio di mesi in cui tanto gli indici come l'euro dollaro potrebbero anzi molto probabilmente continueranno con questa fase laterale che a noi personalmente come trader giornalieri ci viene anche bene perché perché comunque adesso arriviamo in zone in cui è possibile effettuare acquisto e vendite nel caso ovviamente del dax che abbiamo visto prima stiamo arrivando in una zona di acquisto di giornaliera ok quindi con uno stop molto contenuto mentre per quanto riguarda l'euro dollaro abbiamo esattamente lo stesso scenario però ovviamente per un'ottica non giornaliera ma direi più un'ottica di settimanale ok ovviamente ci spostiamo in un grafico a 15 minuti così riusciamo a vedere meglio ok la tendenza che in questo momento è piuttosto forte dell'euro dollaro a ribasso dollaro molto molto forte con in addirittura uno dei cross che io seguo sempre in maniera piuttosto interessante il dollaro yen che ha rotto in maniera importante la zona dei 107 384 la vedete lì marcata proprio con una linea orizzontale una zona che è stata completamente per così dire asfaltata funzionava veramente molto molto bene questa resistenza dinamica sul dollaro yen e in questo momento qui è stata rotta in una maniera piuttosto importante quindi sull'inraday continuano ancora continuiamo ancora a cercare di capitalizzare questo moving che c'è sul dollaro un dollaro forte molto molto forte rispetto alle altre valute e che ovviamente ci può dare dei gain abbastanza facili tra virgolette e abbastanza interessanti parliamo ovviamente di stop loss e take profit perché in queste operazioni qui bisogna darsi anche dei target piuttosto importanti stop loss sul DAX che secondo la nostra analisi potrebbe essere valido e cercare di lavorare con uno stop loss di 15 punti ok cosa vuol dire vuol dire che se io adesso entro in in questo momento long sul DAX a 10.630 ok tanto per farvi capire metterò il mio stop loss a 10.615 ok l'obiettivo sul DAX medio per il giornaliero è ovviamente un una trentina di di punti ok una trentina di punti poi se riuscite a lavorare anche con il trailing stop tanto di guadagnato ovviamente in questa situazione qui possiamo anche andare proprio alla ricerca dei punti sensibili senza alcun dubbio questo momento qui una primissimo minimo di finalmente di giornata che si sta formando attenderemo la configurazione di due candele ok qualora il minimo non dovesse essere violato in questo momento qui sul DAX ci potrebbe dare già uno spunto al rialzo con obiettivo ovviamente circa il 61.8% barra 50% di ritracciamento che potremmo collocare proprio in una zona sui 10.680 quindi una mossa intelligente che si potrebbe fare tra una mezz'oretta circa quindi alla conformazione qualora il minimo attuale dovesse comunque reggere sicuramente strutturare una posizione a rialzo e sfruttare un po' un ritracciamento fino ai 10.680 680 85 è sicuramente piuttosto appetibile altrimenti qualora non dovesse succedere ciò tranquillamente seguiamo il trend quindi qualora non dovessimo avere questi due minimi crescenti che generalmente sul DAX in 3day danno sempre un buon segnale possiamo tranquillamente continuare a proseguire sulla nostra tendenza ribassista sulla forza che c'è in questo preciso istante ok vediamo un attimino intanto se abbiamo già un po' di dati ecco qui inflazione 0% in questo momento qui un dato piuttosto interessante 0% rispetto allo 0.3 previsto in questo caso parliamo ovviamente dell'indice di prezzi alla produzione quindi un dato sicuramente al di sotto delle aspettative quindi in questo momento qui si potrebbe proprio confermare un po' questo primissimo segnale post post dato che ci potrebbe dare vi ripeto con un doppio minimo crescente sul DAX ok con obiettivo 10.680 solo se abbiamo questo doppio minimo crescente ok solo ed esclusivamente in questo caso qui e come nostro punto di ingresso alla conformazione del doppio minimo sicuramente potrebbe essere 10.641 quindi per avere un obiettivo intorno ai 30 40 punti buoni ok altresì abbiamo visto anche la situazione segnalata anche su Tradebit dove abbiamo dato anche un ottimo spunto sul T-Note stiamo guadagnando già un mezzo punto stiamo guadagnando e sicuramente sotto questo punto di vista alla rottura del minimo abbiamo come obiettivo marcato il 124.47 ovviamente in questo caso qui vi parlo di medio periodo sicuramente potrebbe essere un obiettivo piuttosto raggiungibile in tempi anche piuttosto celeri anche per via della speculazione che abbiamo in questo momento ok quindi fate sempre attenzione nel dividere le operative le strategie giornaliere con le strategie comunque che potete implementare a livello settimanale d'accordo vediamo un attimino se avete qualche domanda spazio quindi alle vostre domande dopo questi primi 20 minuti allora iniziamo con 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 Dino che ci chiede di guardare un attimino il cable andiamo a visualizzare subito cancelliamo il VIX il cable io vado un po' controcorrente sinceramente sul cable vado sulla stellina in generale vado un po' controcorrente adesso siamo sui 124 e 417 io continuo sinceramente ad essere long francamente e sono long io 1 e 22 e continuo ad essere long la struttura mi sembra piuttosto buona per chi volesse comunque effettuare l'ingresso abbiamo uno stop piuttosto interessante proprio su questo minimo qui quindi sui 1 23 589 ovviamente sulla stellina in questo momento non fa tanto differenza se andiamo long o se andiamo short più che altro diciamo la raccomandazione è ovviamente il livello di esposizione che avete però io personalmente continuo a pensare ancora ad un long di sterlina sinceramente sono short sono long di sterlina sul cable quindi continuo sono long di sterlina in generale e continuo ad essere comunque anche in questo caso qui per quanto riguarda il cable assolutamente al rialzo ok dino mi scrivi condivido perfetto Gianni ci chiede come calcoli i punti di stop se ti riferisci Gianni al DAX io personalmente che lavoro molto sul DAX intanto qui ho fatto una piccola spike quindi settiamo meglio i nostri livelli di fibo e sul DAX semplicemente mi baso sulla volatilità il mio stop loss sul DAX è basato sulla volatilità personalmente trovo che 15 punti siano uno stop per così dire a livello di volatilità ampiamente accettabile ok perché il mio obiettivo è sempre di andare a cercare queste zone di percomprato e di pervenduto dove posso capitalizzare un po' in momenti rapporti piuttosto interessanti una 3 una 4 quindi per quello cerco di lavorare molto su questo fattore qui poi mi chiedi se mi basso sulla TR e sinceramente no però lo potete fare è un buono spunto la TR lo vediamo di default si applicherebbe a 14 sul DAX potete prendere il valore che avete qui e moltiplicarlo per 3 però in realtà per stabilire ovviamente il vostro take profit però in realtà io personalmente non lo utilizzo tanto ok però sicuramente è uno strumento interessante vediamo un attimino Ale ci chiede su SP ci manteniamo short come idea di trading assolutamente si seguite l'idea di trading che avete visto sul nostro canale tradebit.it come vedete ritrovate la sessione di oggi che ha il servizio market ha due idee di trading il premium ha un'altra idea il market ha un'altra idea sull'SP poi trovate altre notizie sul Kiwi e sulla Fed ok quindi assolutamente si potete copiare esattamente quello che trovate d'accordo poi vediamo qualcuno Leonardo mi chiede sul gold e ovviamente poi passiamo al petrolio il gold allora il gold personalmente un consiglio che posso darvi il mio indicatore sul gold in realtà è il dollaro franco svizzero in realtà sono long di dollaro franco svizzero e quindi in automatica automaticamente sono short di oro sono short oggi abbiamo captato uno short durante una sessione vip che stavo facendo con uno dei nostri trader questo short qui vedete ho ancora questa trendline rotta 5 dollari ribasso piuttosto piuttosto interessante è ritornato adesso in questo momento qui sicuramente adesso abbiamo una sezione una fase laterale piuttosto normale però francamente sul vedendo il dollaro franco svizzero che ha frantumato il muro della parità e vedendo anche il gold che ha frantumato due supporti strutturali piuttosto importanti l'idea che ho in questo momento sul metallo prezioso che sicuramente in questo momento la prospettiva di medio periodo potrebbe essere un avvicinamento ai 1200 ovviamente non escludo rimbalzi e ritracciamenti verso zone dei 1240 o 1250 senza alcun problema insomma proprio poco sotto quest'area di congestione che abbiamo avuto l'abbiamo già visto fare quindi molto probabilmente abbiamo comunque una situazione in cui possiamo trovarci una zona arrivare in una zona proprio in questa fase qui e poi cercare un po' un ribasso fino ai 1200 e ovviamente dipenderà molto poi di come verranno scontate nelle prossime settimane un po' le varie notizie sui tassi di interesse però sotto questo punto di vista diciamo attualmente la view è questa se lavorate con stop loss ad ogni modo non avete di questi problemi ok se lavorate con stop loss in questo momento qui ad ogni modo continuo a rimanere per quanto riguarda la giornata comunque long di dollaro franco svizzero e short di oro per questa giornata qui ok e poi andiamo a vedere un attimino Alberto mi chiede se sono bande di bullinger modificate esattamente sono bande di bullinger modificate e poi parlavamo un attimino del petrolio andiamo a vedere il petrolio anche in questo caso qui il mio indicatore è sicuramente il dollaro con il dollaro canadese ok dollaro con dollaro canadese ieri c'è stato un ribasso piuttosto interessante sul dollaro dollaro canadese quello che potrebbe esserci oggi è o la rottura di questo minimo a 1.3416 o la ricerca proprio del massimo a 1.35918 io personalmente sono più favorevole per la seconda opzione ok quindi con obiettivo 1.35 cercare di rieplicare un po' il massimo di due giorni fa ok e quindi in automatica mi aspetto un ad ogni modo un petrolio ancora debole sotto questo punto di vista ma più che altro perché comunque a fine a fine mese a fine mese se non ricordo male c'è di nuovo una riunione una riunione OPEC per stabilire proprio e decidere effettivamente se ci saranno un po' questi tagli alla produzione giornaliera oppure no ovviamente il dato di oggi provoca e porta volatilità tanto a rialzo come a ribasso il consiglio che vi do è di non andare ad operare direttamente sul petrolio su questo dato qui perché la volatilità che è il petrolio per un trader diciamo come noi non aiuta soprattutto a livello di stop loss ma lavorate dal mio punto di vista lavorate sul dollaro con il dollaro canadese dove molto probabilmente avrete una volatilità piuttosto più lineare più pulita sotto questo punto di vista ok e ovviamente la strategia la potete decidere tranquillamente voi nel senso che alcuni di voi magari penseranno ad un long altri ad uno short altri ad inserire ambedue le posizioni quello che importa è ovviamente settare sempre in forma anticipata i stop loss e i take profit io personalmente comunque sono più una view più a rialzo sul dollaro canadese che è ribasso oggi comunque se andiamo a dare un'occhiata un attimino ai valori sperati abbiamo l'ultimo valore il precedente era 2.432 milioni di barile al giorno attualmente ci aspettiamo un 1.480 un valore piuttosto basso qualsiasi l'idea che che ho qualsiasi valore positivo uno sconti qualsiasi valore positivo comunque non produrrà una volatilità tale da da creare una direzionalità sul petrolio ok anzi penso già che si stia scontando un po' con questa fase ribassista che stiamo venendo proprio degli ultimi dell'ultima ora stiamo un po' cercando questa zona di di minimo per poi partire ancora a rialzo però se dovesse arrivare in questa zona qui sarebbe l'ideale sugli 1.34 430 perché comunque secondo me qui sarebbe ideale proprio per settare lo stop loss e il self stop in contemporanea sotto il minimo e ovviamente sopra su questo livello qui degli 1.34 430 quindi in realtà vedo abbastanza bene questa operazione vedo bene la possibilità di costruirla nel miglior modo possibile vi ricordo che l'orario è alle 16.30 ok quindi un orario delle 16.30 e generalmente gli ordini pendenti vanno messi più o meno una decina di minuti prima ok potete anche effettuare eventualmente le entrate a mercato ok vi consiglio sempre però di rispettare i vostri livelli di stop loss e take profit ok inserirli ovviamente nel momento in cui viene inserito l'ordine d'accordo vediamo altre domande se avete altri dubbi altre curiosità sembra di aver visto un po' tutto Vittorio chiede mi fareste rivedere il grafico del DAX con il doppio minimo che si sta formando di tracciamenti di Fibo lo rimettiamo quale dicevi questo di questa piccola onda o con l'altra diciamo di di meglio periodo questo ok eccolo qui vedete si sta formando adesso probabilmente una situazione proprio di doppio minimo crescente che potrebbe essere vedete una un'indicazione sulla possibilità poi di andare a ad acquistare un po' in questa zona in 10.640 e andare a cercare un po' questo movimento di una 35-40 punti più o meno ok ovviamente bisogna aspettare secondo me almeno un paio di una mezz'oretta quindi un paio di candele a 15 minuti dal mio punto di vista per vedere una situazione simile altrimenti tranquillamente seguiamo il trend senza alcun problema seguiamo il trend senza alcun problema anzi e di questo 10.640 magari abbassando la size vi può funzionare bene anche come livello di stop loss nel caso in cui seguiamo il trend a ribasso ok perfetto per il momento io direi che è tutto vi ringrazio per essere stati qui con me per aver condiviso questa sessione di trading qui con me e se avete qualsiasi tipo di domanda qualsiasi tipo di informazione avete la mia mail andrea.dmarco.xtb.it vi raccomando di seguire le altre sessioni dei webinar e ovviamente qualsiasi aggiornamento avete qui tutti i nostri contatti e vi raccomando anche di seguire sempre Tradebit con tutte le idee e tutte le info utili grazie mille a tutti vi auguro un buon trading grazie mille a tutti 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 Grazie a tutti